And welcome to my channel, guys. I'm very happy to announce that I got 30... no, sorry, 23.000 subscribers just today. Oh, wow, I got impressed as I was reading the number. Mamma mia, che bello, ragazzi. Scusate per questa voce un po' così oggi. C'ho uno stile che è tutto dire. Allora, praticamente a me arriva dicembre e insomma inizia un po' che po' la stanchezza, perché è un periodo naturalmente abbastanza pieno di roba, perché come vi ricorderete io sono musicista anche, e in particolare ho un gruppo gospel, sono violinista, direttore di coro, insomma piace molto musica gospel, a me piace anche il rock, a me piace insomma tanti generi musicali. E quindi noi stiamo preparando adesso il nostro, diciamo, concerto di Natale, no concerto, ma spettacolo gospel di Natale. E quindi insomma la sera mi divido fra andare a fare le prove, poi ritorno, poi ritorno, faccio le mie cose per il canale YouTube, insomma. È una bella vita, è un bel movimento in questo periodo. Un attimo che non trovo il pennarello rosso, dove è andata a finire? Vabbè, non fa niente. Prendiamo un altro pennare rosso. Ecco, la live ha questo problema, questo difetto. Intanto benvenuti, insomma questa è la live di matematica del giovedì, era un sacco di tempo che non facevamo la live il giovedì di matematica. Che bello, che bello, benvenuti. Adesso vi saluto, vai un attimo. Si sente benissimo, è vero? Si sente... è vero, sì sì, lo confermo da solo. Perché ho messo l'altro microfono, insomma l'altra volta ho avuto qualche problema. Allora ragazzi, dai, vi saluto. Ciao Edoardo, ciao Lolita, ciao Beatrice, ciao Levi, ciao Eleonora, ciao Luca, ciao Gelo, ciao Vdalfon, ciao Carmelo, ciao Francesco, ciao Inna, ciao Francesco, ciao Maria. Salutatemi tutti! Allora, leggo un po' di commenti, dai ragazzi, ci vogliono fare un po'... Allora, dice Maria, quando finirò la maturità ti farò una statua in oro, ok? Fammi la statua in oro, portamela e lasciamela. Va bene, poi me la vedo io che cosa devo fare di quella statua, la sciolgo. Beatrice, vi hai salvato la verifica di fisica. Beatrice, sono molto felice per te, very happy. If you want to write in English, feel free to do that, because I do prefer just maybe answering question in English as well. Luca, il volume è in ritardo, ma veramente, vabbè, fa niente, che te frega. Te la facciamo solamente vedere. La statua, va bene, ve la fate solo vedere, va bene, va bene. Dai ragazzi, cominciamo. Allora, derivata. Oh che dolore. Potrebbe anche fare da tutor per dottorato in fisica. Boh, magari, che bello, che figata. Ma chissà, succederà, eh ragazzi, con tutto quello che sta accadendo. Ma scusa, ma qua è altissima oggi la cam, ma perché? Bassiamola un po'. Molto meglio, no? Allora, facciamo un attimino. Ecco, vedete, molti l'aspettavano sta lezione sulle derivate, perché in realtà... Ah, che bello, che belli questi commenti. Ragazzi, io mi commuovo, però devo fare la lezione. Allora, concentriamoci. Dunque, in realtà, io di derivate ho già parlato sul mio canale YouTube. Vi ricordo, ragazzi, per favore, che ci sono diverse playlist di matematica. Ho rimesso a posto le playlist, quindi fidatevi, andate a vedere a cercare. Nelle playlist matematica, liceo scientifico, forse anche nella playlist esami di maturità, andate a vedere. Ci sono tre video dedicati alle derivate, in cui ho risolto degli esercizi utilizzando le derivate note, quelle conosciute. Però, molti mi hanno detto, vabbè, ma qual è il significato geometrico di derivata? E poi, soprattutto, la derivata che cavolo serve. E lì sarà la sorpresa. Perché lì vorrei lasciarmi un po' più di spazio alla fine della lezione per spiegarvi questa cosa qua. Però, prima di procedere, allora, guardate, io vi ho disegnato un grafico di una funzione. Va bene, togliamo sto punto esclamativo che confonde solamente nel grafico. Abbiamo un grafico, un piano cartesiano x, y, abbiamo una mezza parabola, ok, perché si vede tanto che è una semiparabola, però è una funzione, naturalmente. Quindi diciamo che noi possiamo individuare, su questo grafico, un punto P di coordinate x, 0 ed f di x, 0. x, 0, o se volete, y, 0. Ma molto spesso si usa la f di x, 0. E fidatevi che è meglio, f di x, 0. Cioè sarebbe il corrispondente valore della x sull'asse delle y, per spiegarci. Abbiamo questo punto P. Allora, quello che vogliamo praticamente fare è che vogliamo rappresentare la tangente nel punto P, anzi, più che vogliamo rappresentare, vogliamo trovare la tangente nel punto P. Io intanto la disegno, la tangente nel punto P, che naturalmente è questa. Eccola qua. Ovviamente, insomma, tremava un po', non si è venuto bene, è venuto bene. Questa è la tangente nel punto P, ok? Allora, se io, diciamo, chiamo la curva, questa alla fine è una parabola, una curva, la chiamo C, questa curva, la chiamo così. Io posso fare la cosiddetta condizione d'appartenenza del punto P alla curva. Quindi dico che P appartiene alla curva C. Ovviamente, ragazzi, questi sono argomenti per ultimo anno, liceo scientifico, licei, istituti tecnici, professionali, insomma, siamo alla fine di tutto. Mi state per liberare della scuola, ecco, diciamo. Allora, questo implica, se tu fai un ragionamento, e cioè fai la condizione d'appartenenza di un punto ad una retta, questo punto ha coordinate X0 ed Y0, forse l'ho fatto anche questa roba qua nel mio canale YouTube, puoi scrivere che, vediamo, Y meno F di X0 è uguale a M di X meno X0. Questa è la condizione d'appartenenza di un punto ad una retta e ti viene fuori questa cosa qua. Se vuoi, se ti suona un po' meglio, Y meno Y con 0 uguale M X meno X con 0, se ti suona meglio, io sto usando F di X0 perché spesso, quando si parla di derivate e si parla di funzioni, si usa X0 ed F di X0 come coordinate del punto. come potete notare, qui in mezzo c'è una cosa che è questa qua e che si chiama M, si chiama via le telefonate, scrivetemelo voi, dai, scrivetemelo veloce. Che cos'è quell'M? Stiamo praticamente parlando di… questi sono argomenti di quinto anno, sì, più o meno, io non so però veramente a che anni si fanno tutte queste cose, mi dicono alcuni studenti che studiano la derivata in quarto, altri mi dicono che la studiano in quinto, quindi insomma quarto o quinto anno. Fantastico, Luca, Matteo, Lolita, Chiara, Francesco, Cannavello, Miche, Oz, tutti quanti, fantastico, coefficiente angolare, quello è il coefficiente angolare, quindi praticamente dobbiamo conoscere il valore di questo coefficiente angolare. Allora, la domanda è come lo calcoliamo questo coefficiente angolare? Punto di domanda. Ci domandiamo questa cosa, allora lo dici, quasi quasi, ciao Just, quasi quasi, ci usiamo un trucco, cioè cambiamo approccio, invece di considerare il punto P solamente, considero un altro punto sulla retta, per esempio il punto Q, che è questo. questo punto Q è un po' più in là rispetto al P, vedete? Cioè diciamo che dista, e sì qualcuno scrive formula inversa, in realtà guardate, dobbiamo capire, chiaramente vedete l'approccio è un po' diverso, cioè io in pratica sto prendendo questo punto Q, questo punto Q fa sempre parte della curva, questo punto Q che coordinate A. Allora guarda, diciamo che l'ascissa di Q è x con 0 più un certo scarto, questo scarto e questo scarto qui, che io per esempio chiamo H, diciamo mi sono spostato di un certo punto H. Quindi praticamente l'ascissa di questo punto Q sarà x con 0 più H. E l'ordinata di Q facile sarà F di x con 0 più H. Babane? Voi direte, e perché abbiamo preso il punto Q? Perché praticamente vogliamo considerare la secante che passa per P e per Q. Attenti, vi prego seguitemi, disegniamola. Sperando di riuscire a disegnarla perché qua se sbaglio è tutto un caos. Allora questa è la secante. Eccola qua. Eccola qua. La vedete? Questa era la tangente e questa è la secante. Questa è la T in P e questa è la S che passa per Q e per P. Babane? Ok. Allora dice. E che ce ne frega a noi della secante? Perché? Perché potete applicare concettualmente un'altra cosa. Io ogni tanto faccio il buffoncello, voi lo sapete che a me mi piace, ma in realtà le cose che sto dicendo sono molto, 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 molto serie. E in realtà se qualche professore vi spiega di, vi chiede di spiegare il significato di derivata, ragazzi, questo discorso qua è matematica pura. Detta non ma io ne sono bad. Allora, io posso considerare adesso due punti. Escrivere il coefficiente angolare di riferito ad una retta passante per due punti. Se vi ricordate in maniera molto sommare quel coefficiente angolare di una retta passante per due punti, ti ricordi? Ti ricordi? Sì? Vedete se me lo scrivete nel frattempo. YB-YA fratto XB-XA. Molto spesso viene scritto così. Bravo, bravissimo Carmelo. Carmelo, fantastico, mi hai dato questa idea. Ti prego, poi si fa il limite, brava lei. Esatto, scusami, lo scrivo così, Carmelo. C'hai ragione. Delta Y fratto delta X. Quanto è bello Carmelo. A Carmelo, ciao. Ha ragione. È proprio delta Y fratto delta X. Ma il mio delta Y che cos'è? Il mio delta Y è la Y di Q meno la Y di Q. La Y di Q è F di X0 più H e la Y di P è F di X0. Ce l'hai? Sì. grazie, prego. La X di P è X0 più H e la X di Q, scusami, la X di P è X0. Beh, fate un altro passaggino simpatichino, bellino, bellino. Giro un altro po' la lavagna, scusate. si calcola sempre, bisogna trovare la M fra due punti, è un metodo naturalmente. Micheol... Micheol... X0 meno X0 va via. Sto inventando le altre canzoni per il verde, d'avviso. Allora, attenti, perché questo è importante. Ah, ragazzi, questo viene chiamato, cioè hai capito, no? X0 meno X0, arrivederci e grazie, il numeratore rimane proprio quello. Questo viene chiamato in matematica rapporto incrementale. che come ti ricordi, che come ti ricordi, corrisponde al coefficiente angolare che tu stai calcolando, a quell'N riferito alla secante. Adesso, se notate, c'è un ragionamento che possiamo fare. Se noi immaginiamo, voi potete trovare diverse animazioni anche in internet, ma se noi immaginiamo di avvicinare, un attimo che alzo un po', se noi immaginiamo, esatto, si chiama anche rapporto incrementale. Brava Caterina. Se noi immaginiamo di avvicinare questo punto Q a questo punto P, cioè, ti prego, seguimi, seguimi. Quest'H diventa sempre più piccolo, quindi in realtà il punto Q si avvicina al punto P. L'H diventa sempre più piccolo. La secante tende a diventare la tangente. E quindi il coefficiente angolare della secante diventa il coefficiente angolare della tangente. Praticamente. Quello che sto dicendo è che il coefficiente angolare, questo qui della tangente, che io indico in verde, M, non è altri che il limite del rapporto incrementale, che sarebbe questo, R, I, R, I, del R, I, per H che tende a zero. Se questo limite esiste, allora il coefficiente angolare rappresenta la derivata della, ascolta questa cosa, ti prego, la derivata della funzione in quel punto. Questa è una cosa meravigliosa, giusto Caterina? Cioè, la derivata della funzione nel punto P è il coefficiente angolare della retta tangente in quel punto. Uno dice E. No, perché viene la forma zero su zero, scusami? No, attenzione, attenzione, un attimino, una cosa importante. Noi stiamo dicendo, gelo, stiamo dicendo che facciamo tendere, chiaro, non pensare alla risoluzione del limite, pensa concettualmente alla geometria che è davanti a te. Cioè, se tu fai tendere quest'H a zero, cioè diventa sempre più piccolo, 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 la secante tende alla tangente. È chiaro, quello è il concetto di derivata, di coefficiente angolare. E questa è la cosa meravigliosa. E questa è la cosa meravigliosa. Quindi, se la derivata è il coefficiente angolare in un punto ad una curva, allora possiamo fare un po' di ragionamenti. Possiamo fare un po' di ragionamenti. Perché quello che vi ho rappresentato qua, ragazzi, è, alla fine, il significato di derivata in matematica. E di lì voi sapete che uno potrebbe risolvere le derivate applicando il limite del rapporto incrementale della eccetera eccetera bla 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 e potrebbe dire risolvo le derivate così. Voi lo sapete meglio di me, non è così. Ci sono delle derivate di funzioni polinomiali, logaritmica esponenziale, delle funzioni goniometriche eccetera eccetera, dei trucchi per calcolare le derivate, delle derivate fondamentali, le chiama la matematica, che possiamo utilizzare e fare le derivate. Ma in questo caso, ecco la domanda, ecco la domanda. Luca arriva, dice ma sta cosa? A che serve? Che ce ne facciamo? Attento Luca perché stiamo arrivando a quel punto. Attenzione, attenzione, occhio, seguitemi. La derivata è il coefficiente angolare di una retta in un punto. Guarda un po'. Adesso la domanda è, ma sta roba qua, a che serve? Ora attenzione ragazzi, dovete seguirmi perché io farò dei ragionamenti. Vi ricordate il grafico che avevo fatto prima? Io lo ridisegno un attimo, anche se l'ho cancellato, in realtà mi serve solamente il grafico. Era questo. y, x. E la funzione era così. Ve l'ho detto prima, era una semiparabola che dovrebbe richiamarvi qualcosa in fisica. Dovrebbe richiamarvi qualcosa in fisica, perlomeno se avete studiato i moti. Ora, se io ti dico, guarda, io ti faccio questo grafico. Attento, ti do anche dei numeri. Grafico, spazio, tempo. Spazio in metri, tempo in secondi. Attenzione, bravo, chi è che l'ha scritto? Motul in frammento accelerato. Bravo Carmelo. Bravo Carmelo. Ma che cosa del motul in frammento accelerato? Poi me lo dici per un attimo. Bravo Gelo. All'attenzione, se io ti faccio questa cosa qua, per esempio ti faccio un grafico di questo genere. Diciamo che questo grafico, questo è il grafico spazio-tempo, questo valore vale 3, la legge oraria qui è s uguale 3 più 6 per t, e voi questa la riconoscete. Carmelo dice, questo è il grafico spazio-tempo di un oggetto che si muove a velocità costante, e Carmelo ha ragione, e che parte dal punto 3 quando c'è l'istante di t uguale 0. Quindi in pratica la s di t, la s di t, cioè questo è lo spazio in funzione del tempo, questa non è altri che la cosiddetta legge oraria. Aspetta che la faccio col blu perché vedo che questo pennarello nero fa abbastanza schifo, la s di t è 3 più 6 per t. Sul 3 vi dovreste ritrovare, perché penso che lo sapete, se avete fatto queste cose per bene e avete studiato il moto, soprattutto dalla una delle mie playlist, andate nella playlist grafici e moti o cinematica, moti e cinematica, una cosa del genere. Provate ad andare a cercarla. Io l'ho trattata molto bene, i moti rettilini uniformi. Questo è il moto, rettilini uniformi, di un oggetto che va a velocità costante, assolutamente a velocità costante, e che ha questa legge. Domanda, vediamo se qualcuno di voi mi sa rispondere. Beh, non parlate fra di voi, parlate fra me. Mi dite che velocità, avete detto velocità costante, mi dite qual è la velocità di questo oggetto. E perché? Carmelo, fantastico. Scrivetelo anche gli altri, scrivete anche gli altri. Dai, dai, dai belli, dai, belli, dai, belli. Allora vedo che avete l'idea abbastanza chiara, perché Carmelo dice, Carmelo dice, addirittura scrive m uguale 6, velocità 6, Paola dice 6, Luca dice 3s0. Io voglio sapere la velocità, Luca, non ti preoccupare, 3 l'abbiamo capito, è la s0, la posizione iniziale, ma non ce ne frega niente. Perfetto. Ciao Antonio. Ok, perfetto. La velocità è 6. Attenti. Vi prego attenti. Carmelo ha scritto m uguale 6, perché Carmelo dice, in questa legge, y uguale mx più q, questo rappresenta il coefficiente angolare. 6 rappresenta il coefficiente angolare. E 6 è la velocità costante dell'oggetto. Attenti. Il coefficiente angolare vi dovrebbe richiamare all'orecchio qualcosa. Quello che abbiamo detto prima. Prima abbiamo detto, la derivata è il coefficiente angolare della curva in un certo punto. Qui, ragazzi, dove cascate cascate, questa non è una curva, questa è una retta. Il coefficiente angolare sarà sempre 6. Velocità costante, 6. Wow. Infatti, se voi calcolate la velocità di questo oggetto come derivata prima dello spazio, il modo di scrivere la derivata, ci sono tanti modi. S primo, S col puntino sopra, D di S, D di S in DT. Vi prego, non stiamo facendo una lezione sulle derivate, diciamo, a livello di... Io vi voglio far capire il significato in fisica. Se tu fai la derivata di questa roba, 3 più 7T, voi che però le sapete fare le derivate, vi prego, voi che le sapete fare le derivate, questa è una cretinata, questa formula è una cretinata, perché la derivata di 3 è 0. La derivata di 6T, la derivata la stiamo facendo rispetto a T, è 6. Wow. Velocità uguale 6, costante. Ti sei calcolato la velocità come derivata dello spazio. Questo è il significato di derivata. Aspetta che non ho finito, eh. Aspetta che non ho finito, perché questo era un esempio molto molto semplice, molto semplice, semplicissimo. Perché questo grafico qua ti è semplice, ma se io ti disegno un altro grafico, per esempio un grafico di questo tipo, sempre spazio in funzione del tempo. Spazio in funzione del tempo. Metri secondi. Sempre, sempre. Ciao a tutti e quelli che sono arrivati, eh. Io saluto tutti, ma non è che posso interrompere sempre salutare. Allora, guardate, se io faccio questo tipo di grafico, le cose cambiano, le cose cambiano. Perché il grafico, guardatelo, analizzatelo questo grafico qua, il primo pezzettino sembra una retta. Guarda, se io ti copro, qui sembra una retta. Poi il grafico si incurva fino a diventare qui orizzontale. Poi si incurva scendendo. Anche questo pezzo centrale sembra una retta che va in giù. Poi dopodiché qui si incurva diventando di nuovo orizzontale. Si dice che ci sono dei punti di massimo e di minimo. Chi studia le funzioni queste cose le sa, ma adesso lo state vedendo in fisica. Poi si incurva di nuovo e poi diventa di nuovo una retta. Praticamente in questo si chiama moto vario in fisica. Se voi andate a considerare massimi, minimi flessi, come dice Caterina, se voi andate a considerare il coefficiente angolare nei vari punti, guarda, qui è così. Positivo, 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 positivo ma scende, positivo, positivo, scende sempre di più, diventa sempre di più piccolo, sempre più piccolo, fino a diventare zero il coefficiente angolare. Poi qua diventa tangente, negativo, 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 sempre più pendente, sempre più pendente, negativo. Poi di qua diventa di nuovo positivo, di nuovo, scusami, aumenta, 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 si riavvicina di nuovo allo zero, si riavvicina di nuovo allo zero, di nuovo zero qua il coefficiente angolare. Poi di nuovo qua positivo, sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande. Cioè il coefficiente angolare sta variando. Interpretiamolo. Ti ricordi che così era il coefficiente angolare nel grafico dello spazio-tempo? La velocità. Quindi qui la velocità sta passando da un certo valore, poi piano piano diminuisce, infatti il grafico si incurva, si incurva, fino a diventare orizzontale. Quanto è il coefficiente angolare di una retta orizzontale, ragazzi? Quanto è il coefficiente angolare di una retta orizzontale? Ragazzi, ditemelo. Bravo Manuel, bravo Carmelo, zero. Cioè, praticamente, in quel punto l'oggetto è fermo. Qui sta andando a velocità costante, poi rallenta, 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 attenzione, non va indietro, rallenta, cioè la sua velocità diminuisce. È come quando tu prendi un oggetto e lo lanci verso l'alto, non è proprio questo esempio qua. Però la velocità rallenta, diventa zero, tu trattini il respiro, no? Diventa zero e poi ricomincia ad aumentare. Qui sta succedendo questo. Rallenta, diventa zero, coefficiente angolare zero, derivata prima zero, perché tu ti calcoli la derivata prima qua e ti viene zero e la velocità è zero. Ti calcoli la derivata prima, per esempio, in questo punto qua, ti viene fuori, ragazzi, un valore negativo, perché qui il coefficiente angolare è negativo, grazie, grazie, perché qui l'oggetto sta andando indietro, la sua velocità ti sta diventando negativa. Cioè, guardate, è fantastico. Tutto questo vi apre un mondo, vi apre un mondo. Fra l'altro, in fisica, le funzioni, le grandezze derivabili sono tante e da una ne ottieni un'altra. Seguimi ancora. Ti faccio un altro esempio che ci tengo tantissimo a fare. Ti ricordi questo grafico? Chi è che mi ha detto? Che cosa mi avete detto? Scusatemi, qua del grafico. Che cosa mi avete detto prima? Che grafico rappresenta quello? C'è qualcuno che l'ha detto, non mi ricordo se Gelo o Carmelo, qualcuno che stava commentando. Moto, rettilineo, uniformemente accelerato, bravo. Gelo, scusami, questo potrebbe rappresentare addirittura il moto di caduta libera? Gelo e Scotti, caduta libera. Questo può rappresentare il moto, il grafico di un moto di caduta libera? Pensateci, perché vi fate trarre in inganno? Dice Carmelo, sì. Perché ragazzi, moto rettilineo, uniformemente accelerato, moto di caduta libera. Se voi fate cadere un oggetto verso il basso, accelera con accelerazione costante che tu conosci, G. La scriviamo la legge, scema scema, semplice semplice del moto di caduta libera. Semplicissima. La legge è semplicissima. Guardate, attenzione, questa non è la traiettoria, questa è la distanza percorsa in funzione del tempo. E attenzione, infatti non vi confondete. Il moto di caduta libera S è uguale ad un mezzo per G per T al quadrato. È vero? Questa è la formula motore. Ci sarebbe da dire che se la vogliamo vedere generale sarebbe S0 più V0T più un mezzo di G per T al quadrato, quella completa. Io sto considerando partenza dall'origine e sto considerando partenza con velocità uguale a 0. È un caso particolare. Allora, attenzione, attenzione. Ragioniamo con le derivate. Questa è la funzione dello spazio nel tempo. Ragioniamo con le derivate. Velocità come derivata prima dello spazio nel tempo. Lo scrivo in questa maniera, la derivata. Mi fate la derivata di questa roba qua? Attenzione, ricordatevelo, la G è costante perché vale 9.81 metri fratto secondo al quadrato. Quindi è costante. Mi fate la derivata di sta roba? Io aspetto. Scrivete. Carmelo ha scritto una risposta. Fantastici tutti comunque. Bellissima live. Bravi ragazzi. Molto interattiva. Se io faccio la derivata di questa roba, intanto vedo una risposta. Ve la facciamo insieme. La derivata, vi prego, non devo fare la lezione sulle derivate. Questa è molto semplice. Questa è una costante per T quadro. La derivata rispettata. Ti porti questo 2 qua avanti. 2 e 2 si semplifica. Viene fuori G per T. Ma questa non è la formula della velocità nel moto di cauta libera? Ora facciamo un'altra operazione. Scriviamo l'accelerazione in funzione del tempo. Questa sarebbe la derivata seconda dello spazio in funzione del tempo. O anche, se vuoi, la derivata prima della velocità in funzione del tempo. Quindi puoi fare semplicemente la derivata prima della velocità. Ricordati che questa roba la puoi scrivere anche così. Questa la puoi scrivere anche così. Derivata seconda dello spazio in funzione del tempo. Oppure derivata prima della velocità. Ragazzi, è molto più comodo fare la derivata della velocità. deriva questa. Quanto ti viene? Quanto ti viene? Yeah, Manuel. Yeah, Carmelo. Yeah, Luca. Ti viene G. Infatti, l'avevamo detto che l'accelerazione è G. Cioè, vedete come adesso tornano matematicamente i conti della matematica eh, scusatemi, della fisica cioè, cominci ad entrare dentro la tua testa torniamo, prima di lasciarvi torniamo un attimo al discorso iniziale la derivata è il coefficiente angolare della retta guarda, se tu prendi i vari punti in questo grafico questo, 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 questo e disegni le rette tangenti quindi immagini i coefficienti angolari guarda, prima retta è questa retta tangente seconda retta è questa terza retta è questa quarta retta è questa cioè, ragazzi, scusatemi il coefficiente angolare è zero all'inizio che vuol dire? vuol dire che quando un oggetto cade dall'alto nel primo istante nel primo microsecondo la velocità è zero sì nel secondo microsecondo la velocità è un po' di più è aumentata sì guardate, guardate la retta guardate la retta fa tac 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 cioè la velocità aumenta sempre di più aumenta sempre di più aumenta sempre di più aumenta sempre di più il coefficiente angolare aumenta della retta ritorna tutto ritorna tutto perché quel coefficiente angolare è la derivata prima e se tu disegni il grafico della velocità in funzione del tempo ottieni una retta e il coefficiente angolare di una retta è sempre quello grazie perché la derivata della velocità è l'accelerazione e l'accelerazione è costante e g ritorna tutto questa è la matematica a servizio della fisica ora è chiaro che in matematica vi fanno fare una serie di derivate tante derivate cioè vi fanno esercitare con i numeri ma è giusto che sia così per carità chiudo solamente per dire per dirvi ragazzi volentieri se volete fate adesso leggo un po' di commenti perdonatemi mi ero concentrato sulla lezione se volete ragazzi commentate questo video a me fa molto piacere quando io ricevo i commenti perché sono sempre commenti bellissimi quando mi scrivete mi fate i complimenti mi dite i voti bellissimi che prendete o superate gli esami mi fa immensamente piacere però proviamo a dare un lancio a questo video alla fine commentate sotto provate a sbirciare nei libri di fisica e cercate altre grandezze fisiche che sono la derivata di un'altra grandezza fisica io in realtà guardi ho scritto ne dovevo parlare gli altri due ma non ne parlo perché se no dico tutto io ditelo anche voi provate a cercare in internet qualche grandezza fisica che è la derivata di un'altra grandezza fisica e vedrete che tutto ritornerà vedi che Carmelo fantastico ma ci sono dei ragazzi che hanno fatto le cose meravigliose allora io leggo un po' di commenti perché mi stanno piacendo mi stanno piacendo allora mi dice Simone consiglia per fisica l'uso del Mazzoldi risposta sì tu stai parlando di un testo universitario Mazzoldi complimenti Simone hai fatto ingegneria fisica no Simone io sono fisico ho fatto fisica a proposito uscirà fra non molto un mesetto più o meno metà gennaio un video del quale che devo ancora fare perché scegliere ingegneria tre validi motivi e quale ingegneria è ai primi tre posti secondo la mia classifica arriva fra un mese vi do questa spoilerata leggo ancora concavità verso l'alto sì certamente vabbè a parte queste che mi avete dato le risposte insomma che sono relative alla cosa volevo vedere che voto mi metti no Flavio le parolacce no perché ma che ci fregano le parolacce è tanto così bello ragionare un po' rilassarsi quanto ho fatto di live mezz'ora ma veramente mezz'ora non ci posso credere soltanto mezzo tutta sta roba mi fa piacere ragazzi allora vi ricordo che ci vediamo domani per il video del venerdì il video del venerdì di che parleremo domani parleremo di ok di inglese I don't remember whether I shared three I prepared this video maybe couple of weeks ago three weeks ago or one month ago I don't remember it doesn't matter but I did this video just to improve your pronunciation to share with you my personal suggestion to improve yours ok l'avete capita quindi guardatelo il video di domani ho l'esame d'inglese Nico good luck good luck mi raccomando Michelangelo dove se posso sapere in ingegneria meccanica no perché ingegneria meccanica no non mi sono speciale in fisica that's amazing Caterina thank you so much I appreciate it ok ragazzi ci vediamo domani per il video del venerdì vi lovo tanto vi voglio bene lovini ci vediamo presto ciao mi mancherete vi la martedì mi mancherete tanto tanto e io pure si ciao mandatemi baci mandati baci mentre chiudo baci baci tanti baci